Gli concedo ancora cinque minuti qui e poi... proverò dietro a quell'albero. Ho avuto fortuna là, ieri. Sono qui per Olivia. Ha graffiato i miei vinili. È stata presa. Presa? Per costringere Grant a scendere in guerra contro l'Angola. Ora è stata venduta in un'asta internazionale al miglior offerente. È incredibile. Sono via da quanto? Non so quanto sarà. Dieci giorni e ti sei già perso? No, scusa. Non te la sei persa. È stata presa. Da professionisti. Qualità che li distingue da te, dico bene? Tu peschi? No. La gente che non pesca pensa che pescare sia alienante o noioso, ma è esattamente il contrario. Ci sono centinaia di piccole decisioni da prendere. Variabili che vanno considerate. Non sei mai davvero sicuro di cosa faccia la differenza. Ho lanciato troppo in alto, troppo a sinistra, ho riavolto troppo lento o troppo rapido. L'esca sarà troppo lucente o troppo opaca? Meglio che stia qui o dovrei piazzarmi sull'altra sponda? E tu sai che c'è una quota di fortuna, però non sai in quale proporzione. La gente è prevedibile, immutabile, monotona, usa sempre lo stesso lessico, adduce sempre le stesse scuse, compie sempre i medesimi errori. Le persone sono enormemente deludenti perché in fondo tu ti auguri che non siano così. Sapevo che le sarei servito, che tu saresti venuto a implorare il mio aiuto. Era tutto prevedibile, tutto deludente. Ecco come mai sono qua a pescare, perché non mi sento mai deluso qua giù, perché io qui non mi aspetto niente, perché qui tutto è possibile. Io posso di nuovo sperare qua giù, perfino nel fallimento. Perché so che se solo mi spostassi là, dietro quell'albero, potrebbe essere diverso. Qualcosa può essere diverso, qualcosa che io faccio può fare la differenza.